Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Questa è la storia di un sequestro finito male, ma è anche lo specchio fedele della società del suo tempo, quello della fine degli anni 70, bigotta, pruriginosa, dedita al pregiudizio, ipocrita. Tanto si è ricamato su questo caso, tanto si è detto e tanto ancora è rimasto sepolto, al punto da non saper più distinguere la finzione, anzi l'invenzione dalla realtà, ma è soprattutto la storia del suo protagonista che si è persa tra le pieghe del fiume di inchiostro versato per anni, la vicenda tragica e forse per molti sconosciuta di Armando Lavorini, 13 anni appena. E allora, tiriamola fuori questa storia brutta e raccontiamola. Benvenuti in un nuovo History Crime. Siamo a Via Reggio, in Versilia, con le sue lunghe, lunghissime spiagge prese d'assalto in estate e desolate in inverno. La patria del carnevale, della scarpaccia dolce e dei tordelli. Il luogo dove nel marzo del 1956 nasce Armando Lavorini, nato dall'unione fra Armando Lavorini e Lucia Broia. Armando Lavorini a Via Reggio lo conoscono tutti. Suo è il negozio di tessuti più famoso in città, attivo ancora oggi. Il negozio si affaccia sulla piazza principale di Via Reggio e Armando lo gestisce insieme a Lucia, madre di Armando, e Marinella, la prima figlia della coppia. In una foto della sua prima comunione, nel suo vestito buono, Armando ci appare con lo sguardo timido e nello stesso tempo grave, la bocca serrata, l'espressione seria. E in effetti, in quasi nessuna foto, Armando sorride. E chi l'ha conosciuto lo descrive come un ragazzino molto introverso, con i capelli chiari a spazzola e la passione per il calcetto. Ama un po' meno la scuola, infatti a 13 anni si ritrova a dover ripetere la seconda media perché, come diranno i suoi professori, gli mancano le basi. E questo perché Armando le elementari le aveva fatte a casa, un po' facendosi aiutare dai genitori, un po' da un insegnante privato, presentandosi all'esame di licenza elementare come privatista. Ma dietro questa scelta apparentemente scelerata, c'era la volontà di nascondere un segreto di famiglia, e cioè che Armando portava il cognome della madre perché suo padre, Armando, originario di Montecatini, una moglie ce l'aveva già. E quella con Lucia era una convivenza, diciamo così, irregolare, perché non erano sposati, quindi Marinella ed Ermanno erano figli legittimi. Armando li riconoscerà entrambi solo nel 1967. Nel 1969 Ermanno ha 13 anni, ama il calcio, la sua bicicletta e il Luna Park. Un ragazzino come tanti, timido e sensibile. E chissà cosa sognava di fare Ermanno nella vita. Chissà se avrebbe voluto continuare a seguire gli affari di famiglia o se avrebbe voluto fare il calciatore. Ahimè, non lo sapremo mai perché Ermanno non vedrà mai l'alba dei suoi 14 anni. Scompare improvvisamente un venerdì del 31 gennaio 1969. Dei suoi familiari l'ultimo a vederlo è la madre, intorno alle 14 e 30. Ermanno esce dall'appartamento dove vivono, che si trovava sopra il negozio, inforca la sua bici, una super aquila rossa col manubrio da corsa, nuova di pacca, ricevuta per l'epifania. E nessuno lo rivedrà mai più. Mentre esce dirà, fra una retta sono qui per fare i compiti. Sì perché per Ermanno prima viene il piacere giocare a calcetto e poi il dovere. Ma è un bravo ragazzino, ubbidiente e che riga dritto e i suoi gli concedono volentieri di distrarsi un po' prima di chinarsi sui libri. Per via Reggio gennaio è un mese di grande fermento perché tutti si preparano al grande evento, il carnevale. Tempo di sfilate di carri, veglioni, truppe televisive e tanti, tantissimi visitatori. La settimana più bella dell'anno dove si respira solo allegria e goliardia. Ermanno, dopo essere uscito da casa, si dirige in piazza dove stanno montando i Luna Park. Si aggira per i vari chioschi cercando dei biglietti omaggio per le giostre per sé e i suoi amici. Da quel momento in poi nessuno lo vedrà più. Alle 15 e 30 mamma Lucia inizia a preoccuparsi perché Ermanno non ritardava mai ed era così preciso e scrupoloso che per non fare preoccupare i suoi genitori comunicava sempre orari e spostamenti e se diceva che sarebbe tornato entro un'ora lui dopo un'ora spaccata era già a casa. Quel ritardo quindi mette subito in allarme la famiglia. Alle 16 e 30 la preoccupazione è già diventata angoscia. La sorella Marinella e la mamma escono a cercarlo. Vanno in piazza al campo di calcio, vanno a bussare alle porte di casa dei amici più stretti di Ermanno, ma nulla. Il ragazzino sembra essersi dissolto. Nessuno lo ha visto, nessuno lo ha sentito. Le due donne tornano sconsolate a casa temendo il peggio. Forse Ermanno era stato rapito. Le loro paure si concretizzano un'ora dopo quando Marinella riceve in negozio una chiamata strana. Una voce maschile adulta le dice qualcosa che la farà sprofondare nell'orrore. Ermanno non tornerà a casa, anzi, ritorna dopo cena. Dica a suo padre di preparare 15 milioni e di non avvertire la polizia. Quando posa la cornetta, Marinella caccia un urlo spaventoso che riecheggia per tutto il negozio, spaventando i clienti. Hanno rapito Ermanno. La notizia corre di casa in casa, di negozio in negozio, e dopo un po' tutti a Viareggio sanno che hanno rapito il figlio del lavorini. In poco tempo si organizzano delle battute di ricerca. Gruppi di cittadini volontari affrontano il gelo della notte per strappare Ermanno dalle catene di anonimi sequestratori e restituirlo sano e salvo ai suoi genitori. E ovviamente vengono allertate le forze dell'ordine. Nel 1969 in Italia c'è una scarsa, anzi scarsissima, cultura investigativa sui rapimenti dei minori. Ecco perché, per risolvere il caso, vengono incaricati gli uomini migliori della polizia e dei carabinieri, come il maigret italiano, il commissario Mario Jovine, il capo della Criminal Poll, e il colonnello Mario De Julio. Il Viminale, come prima cosa, stanzia 10 milioni di ricompensa per chiunque fornisse informazioni utili. E ovviamente, tra segnalazioni vaghe, confuse e inattendibili, non mancano gli sciacalli, quelli che chiamano dichiarando di sapere esattamente dove si trovasse Ermanno. Si trova alle cave di Carrara, dice un anonimo segnalatore, ma alle cave Ermanno non c'è. Una donna, dal Chiara Cento Veneto, giura di averlo visto in via Gioia con due uomini, ma non è neanche lì. Qualche giorno dopo, appoggiata ad un albero, assicurata da un lucchetto, qualcuno nota una bicicletta rossa, modello Aquila, nuovissima. È quella di Ermanno. La ritrovano in piazza grande, di fronte a Luna Park, a pochi passi dal comando di polizia. Era sempre stata lì o qualcuno ce l'aveva messa dopo? E perché nessun effetto a rilievi sulla bici? Ermanno viene cercato ovunque, nei boschi, vengono dragati i laghi, i fiumi, con un dispiegamento di forze poderoso, ma del ragazzino, nessuna traccia. Come se la terra lo avesse inghiottito di colpo. Viene persino chiamato il famoso mago Gerard Croisset, un sensitivo molto accreditato in Europa. Secondo il mago, Ermanno è mortannegato. Armando Lavorini, che da quando è successo il fatto non si muove dal suo negozio, non ci sta e dalla radio annuncia di voler pagare il riscatto. Anzi, rilancia e offre fine a 25 milioni e chiede ai sequestratori di mettersi in contatto con lui. Mi trovate al negozio? Io non mi muovo, dice. Per via Reggio e la Versilia intera, sembrano non esserci pace, era passato appena un mese da quel capodanno di sangue davanti la bussola. Un gruppo di ragazzi capitanati da un certo Adriano Sofri avevano manifestato lanciando pomodori, uova e verdure all'ingresso del locale La Bussola, di Marina di Pietrasanta, per protesta contro lo sperco di denaro di chi festeggiava il capodanno nel noto locale. Era anche partito un colpo di pistola che aveva colpito un ragazzo alla schiena, condannandolo alla sedia a rotelle. La consueta diretta sulla prima rete salta e il capodanno va sotto sopra tutti. E' adesso questo, il sequestro di un ragazzino. Molti in questa storia inquadrano subito un colpevole, anzi, un luogo. Sono stati quelli lì, quelli che vanno in pineta, dice qualcuno. E la pineta di Ponente diventa il centro nevralgico di questa storia. Un luogo la cui energia apparentemente negativa investe i cittadini e li carica di odio e pregiudizio. La pineta di Ponente, a Via Reggio, è considerato un polmone verde della città. Un luogo dove le mamme portano a passeggio i figli, dove i ragazzini si riuniscono per giocare e dove tutto, almeno di giorno, appare bello e pulito. Ma è quando cala la notte che la pineta mostra il suo volto malvagio. Perché, mentre le mamme e i figli sono al sicuro nelle loro case, la pineta si popola di personaggi ai margini. E' sempre stato così in pineta. Una volta lì, le prostitute addescavano i loro clienti. Ma adesso si erano tutte spostate sul lungomare, al loro posto. C'erano gli omosessuali, in cerca di intimità, ma soprattutto c'erano loro, quelli che avevano una predilizione per i ragazzini, che pagavano per accompagnarsi con loro. Fino a quel gennaio del 1969, tutto ciò che accadeva all'interno del perimetro della pineta rimaneva lì, inamovibile come gli alberi e i sassi, che ne caratterizzavano il paesaggio. Ma adesso è diverso, perché Ermanno non è un ragazzino abbandonato da Dio e da tutti, o un figlio di Balordi che tira su qualche soldo vendendo il proprio corpo. Ermanno è il frutto buono della società civile, e questo non era mai accaduto. In quel febbraio del 1969, via Reggio tutta afferra i forconi e inizia una vera e propria caccia alle streghe, che per i via Reggini sono quelli che venivano definiti con spietata brutalità i capovolti della pineta. In questa brutale definizione ci sono dentro tutti, gli omosessuali, i transessuali, che allora venivano chiamati travestiti, e gli amanti dei bambini, mettiamola così. Non c'è differenza, sono tutti la stessa cosa, sono tutti dei debosciati e dei rifiuti della società, un tutt'uno indistinto. In pineta per la prima volta entra la polizia che ne rastrella un migliaio, gli scheda e li mette alla merce di tutti. E incredibilmente si scopre che no, la pineta non era frequentata solo da balordi, anzi di anormali come scriverà il Corriere della Sera, ma c'era anche gente insospettabile. Molti altri erano dei ragazzi di provincia che venivano a prostituirsi nel weekend per pochi spicci. Le indagini sul rapimento di Armanno Lavorini quindi si indirizzano subito nell'ambiente omosessuale di via Reggio. Qualcuno lo aveva rapito per i suoi biechi scopi e visto che il ragazzino era di famiglia facoltosa, aveva anche pensato di spillare qualche milione ai lavorini. Quella che parte come un'ipotesi investigativa diventa in poco tempo certezza inconfutabile e via Reggio tutta si solleva in un'ondata di inarrestabile indignazione. A caricare la città è anche la stampa che aizza la folla con titoli sensazionalistici che hanno il sapore di un tribunale popolare. Il Corriere della Sera ribattezza via Reggio come Sodoma, questo per capire il tenore di quegli articoli. A via Reggio non si parla d'altro, come se la vicenda di Armanno fosse stata il pretesto per sollevare la questione. Armanno e la sua scomparsa sono il tappo saltato su una situazione ormai fuori controllo, si dirà. Ma mentre la città si agita attorno a questo tema, una famiglia sprofonda nella disperazione più nera. Nessuno da quella prima telefonata si era fatto più vivo. E quindi che fine aveva fatto Armanno? Nel frattempo le indagini vanno avanti e la pista della pineta sembra farsi davvero concreta. Qualcuno metterà in giro la voce che i cani poliziotto avevano fiutato tracce di Armanno proprio in pineta. È una notizia falsa e verrà smentita sei anni dopo al processo. Anche le segnalazioni di coloro che avrebbero visto Armanno si sprecano. La proprietaria di un bar al Bocciodromo, nei pressi della pineta, riferirà ad aver visto nel pomeriggio del 31 gennaio un ragazzino che corrisponderebbe alla descrizione di Armanno. Era con un amico, dirà la donna. Mi ha chiesto un bicchiere d'acqua ed è andato via. Quando le chiedono cosa indossasse il ragazzino, la donna dirà. Aveva un impermeabile. Ma quella non era un'informazione sconosciuta perché nell'immediatezza dei fatti Lucia, mamma di Armanno, aveva dato una descrizione dettagliata dell'abbigliamento del figlio. Calzoni, camicia e maione e sopra un impermeabile. Ma è un falso ricordo quello della madre perché Armanno era uscito senza soprabbito. L'impermeabile verrà ritrovato nell'armadio. La proprietaria del bar dirà anche che insieme a Armanno c'era un altro ragazzino e indicherà in un amichetto intimo di Armanno il ragazzino che era insieme a lui. L'amico Nega non era stato in pineta quel giorno né tantomeno aveva incontrato Armanno. Nega, sì, ma non sarà inutile il suo interrogatorio perché il ragazzino fa un nome, quello di Marco Baldisseri, un personaggio chiave di questa storia sbagliata. Marco ha 16 anni ma non ha una famiglia soli dalle spalle, anzi il padre vive con un'altra donna, la madre sgobba dalla mattina alla sera in una lavanderia. Marco quindi non ha mai avuto nessuno che gli desse delle regole o che gli dicesse cosa fare. Interrompe gli studi dopo le medie e lavora a tempo perso come elettricista. Seppur giovanissimo ha una personalità dominante e il piglio del boss. A 16 anni è a capo di una banda di borseggiatori, tutti più o meno della sua età. La banda del gufo si fanno chiamare. E come ogni bandito che si rispetti hanno tutti dei nomi di battaglia. C'è chi si chiama Marciume, chi Dinamita Kid. Marco da sempre entra ed esce dal riformatorio. Ma la sua ultima volta il riformatorio, l'anno prima dei fatti di cui parliamo, sarà per un'accusa pesantissima. Quella di aver rapito una dodicene della zona insieme ad altri della banda. Questa ragazzina è stata per giorni violata in ogni modo possibile, se viziata e scaricata sul lungomare, come un sacco dell'immondizia. Avrà però la forza di denunciarli tutti e Marco verrà condannato a due anni di riformatorio, pena condonata a un anno. Ma Marco è anche un assiduo frequentatore della Pineta e tra quelli che vende il proprio corpo per qualche soldo. Ogni qualvolta succede qualcosa di losco in città, viene fuori il suo nome. Marco non se ne stupisce neanche più. Il 3 febbraio, quindi, la polizia bussa alla sua porta. Si aspettano tutti il suo solito «non so, non c'ero, non ricordo». Invece, inaspettatamente, Marco parla e dice che quel giorno era insieme a Rodolfo della Latta e di aver visto Ermanno il pomeriggio del 31 gennaio 1969 camminare per strada. Rodolfo della Latta conferma di aver visto Ermanno, ma data l'episodio al giorno prima, il 30 gennaio. Rodolfo, per gli amici Foffo, è a furor di popolo un bravo figliuolo. Non fa parte della schiera dei ragazzi di vita di Viareggio, anzi a vent'anni regge il peso della famiglia. È orfano di padre e per aiutare la madre lavora in un'agenzia di onoranze funebri. Lui è quello che sistema i cadaveri, li ricompone, li veste. Il suo datore di lavoro lo stima molto e durante i funerali è quello che si mette pure a consolare i parenti del defunto. Ma non è finita qua, è anche membro dell'Arci Confraternita della Misericordia, un'organizzazione fondata nel 1826. Foffo, però, è anche lui un assiduo frequentatore della Pineta. Lui però non si vende, egli è colui che elargisce soldi a quelli più giovani di lui. Marco lo conosce bene perché è un suo cliente abituale. Anche Rodolfo è un personaggio chiave e lo vedremo. Febbraio volge al termine, così come il carnevale più triste della storia. A vincere è il carro allucinogeno, il mostro della droga che ingoia le sue vittime. Ma di Armanno nessuna notizia. Fino al 9 marzo almeno, un giorno che Viareggio non dimenticherà mai. E domenica mattina è un uomo insieme al suo cane se ne va in giro per tartufi. Renato Tofanelli, questo è il suo nome, quella mattina decide di dirigersi verso Marina di Vecchiano, lì dove c'è una bellissima spiaggia, molto frequentata d'estate, ma che in quella mattina di marzo appare enorme e solitaria. Mentre passeggia tra la vegetazione spontanea, da lontano nota il suo grosso cane scavare come un matto dietro una duna. Si avvicina a cauto, sposta col piede quel cumulo e lì, fra la sabbia, scorge un ciuffo di capelli. Con il bastone continua a smuovere la sabbia dalla quale emerge un viso, quello di un bambino. Vengono allertati i carabinieri di Migliarino Pisano, solo che nel frattempo la voce del ritrovamento di un cadavere giunge alle orecchie della cittadinanza che inizia a radunarsi attorno al corpo in avanzato stato di decomposizione ritrovato in spiaggia, inquinando irrimediabilmente la scena del crimine. Il corpo giaceva con le braccia incrociata al petto in una buca di neanche 40 centimetri, scavata in fretta e furia e così corta che per farlo entrare gli avevano piegato le ginocchia. Il cadavere è irriconoscibile, era passato troppo tempo, ma tutti sanno che si tratta del corpo straziato del povero Ermano Lavorini. I genitori alla notizia del ritrovamento sono colti da malore e quindi a fare il riconoscimento mandano una loro impiegata, che di fatto lo riconosce. Il ragazzino indossava gli abiti con cui era uscito quel pomeriggio, calzoni, camice e maione e le scarpe perfettamente allacciate, in tasca persino le chiavi del lucchetto della sua bici. Nessuno lo ha spogliato e rivestito perché la sua camicia è come la metteva di solito lui, infilata negli slip. Nessuno inoltre lo ha tenuto prigioniero perché Ermano è morto il giorno della sua scomparsa, forse stordito da un pugno alla testa e poi morto per asfissia. L'autopsia non riuscirà a stabilire con precisione le cause della morte, ma una cosa può dirla, Ermano non ha sofferto, è morto quasi subito. Adesso non si parlava più di sequestro ma di omicidio e di quello peggiore perché riguardava un ragazzino. Non che l'Italia fosse nuova a quel tipo di violenza, c'era stato l'omicidio di Annarella Bracci, a Prima Valle, a Roma e sempre a Roma il caso delle sette bambine trucidate da un presunto mostro, dapprima identificato in Gino Girolimoni. No, niente di nuovo, ma la morte di Ermano colpisce tutti e di nuovo sui giornali si torna a parlare di Viareggio e dei capovolti della Pineta. In città scatta la psicosi, non esce più nessuno, specie i ragazzini che smettono di uscire perché lì fuori c'era un mostro che faceva male ai bambini e il clima da caccia alle streghe si fa ancora più aspero. Ne sono tutti convinti, Ermano è stato vittima di un maniaco e quindi il maniaco andava scovato ad ogni costo e lo si fa nel modo più approssimativo e rudimentale possibile. Intendiamoci, è il 1969 e nessuno si era mai trovato a scandagliare gli abissi di quello che era il mondo sommerso della notte e di chi lo popolava. Con pochi, pochissimi elementi a disposizione la polizia disegna un possibile profilo del colpevole. Viareggio, o comunque dei dintorni, cittadino insospettabile, agiato, che vive di notte ciò che non può essere di giorno. Un anormale, dice il capo della Criminal Poll, ma molto astuto. Il primo a finire nel tritacarne è un certo Giuseppe Zacconi, 56 anni, figlio del grande attore teatrale Ermete Zacconi. Giuseppe vive di rendita, il padre gli ha lasciato due ville e un sostanzioso conto in banca. È appassionato di motori, ma non è un viver, fa vita ritirata e si muove solo con l'autista. Giuseppe però non è sposato e soprattutto non frequenta donne. Su Zacconi, uomo schivo e solitario sulla sua vita, la gente mormora e mormora al punto che il suo nome vola di bocca in bocca fino ad arrivare alle orecchie degli investigatori che lo includono nella lista dei sospettati insospettabili. Zacconi viene interrogato, nega di conoscere Ermanno, ma non basta. L'uomo deve dare conto delle proprie abitudini. Cosa fa? Chi vede? Chi frequenta? L'obiettivo è chiaro, capire se Zacconi frequentasse la Pineta. Zacconi però in Pineta non ci va. A Zacconi non piacciono né i uomini, nelle donne, nei bambini e per dimostrarlo al culmine della disperazione arriva a umiliare se stesso. Si alza in piedi, si abbassa i calzoni, gli slip e dimostra a tutti di essere impotente dalla nascita. Zacconi esce di scena, ma quell'episodio devasta la sua psiche. L'uomo cade in una profondissima depressione che l'omina nel fisico e nella mente. Un anno dopo morirà d'infarto. Zacconi è la seconda vittima del caso Lavorini. La procura che indaga per giustificare quelle norme buco nell'acqua dirà, beh, noi quando captiamo una voce ci buttiamo a pesce. Era doveroso verificare. A un sospettato ne segue subito un altro. Il nome stavolta lo suggerisce Marco Baldisseri, che nel frattempo era diventato una sorta di informatore. Il ragazzo fa il nome di un uomo, il signor Antonelli. Quando gli mostrano le foto, lui lo riconosce. Ma Antonelli non è il suo vero nome. Marco però, per la prima volta, ammette un suo coinvolgimento nella morte di Armanno. Egli racconta di aver incontrato Armanno quel pomeriggio e di averlo portato da un uomo di circa 40 anni, che lui conosceva come signor Antonelli, ma che in realtà si chiama Adolfo Meciani. Viareggino è proprietario della Pace, uno degli stabilimenti balneari più famosi a Viareggio. Meciani è un cliente assiduo di Baldisseri, uno che paga bene, talmente bene che un giorno, per togliersi uno sfizio, chiede a Marco di portargli uno ancora più giovane di lui. Marco si mette subito all'opera e pensa subito a Armanno, che si lascia convincere a seguirlo. I tre, racconta Marco, si erano incontrati al bocciodromo e a bordo dell'auto sportiva rossa di Meciani si erano diretti a Marina di Vecchiano. Arrivati in spiaggia, il quarantenne tenta di abusare di Germanno. Meyer reagisce e cerca di difendersi. Meciani, per reazione, lo riempie di pugni e calci fino a fargli perdere i sensi. Lo credono morto e lo soppelliscono sotto qualche centimetro di sabbia. Adolfo Meciani viene convocato dagli inquirenti. L'uomo è reduce da un fortissimo esaurimento nervoso e da un ricovero in psichiatria. È molto magro e malmesso. L'uomo però non ha nulla da temere perché è un alibi di ferro. Quel pomeriggio del 31 gennaio 1969 si trovava a pranzo al gambero rosso con un noto industriale, Leonida Rossi. L'industriale conferma e confermano anche tutti quelli che lo avevano visto in città fino alle 19. Il Meciani con quella storia non c'entrava nulla, però ammette di conoscere Marco Baldisseri e di averlo incontrato quella sera in Pineta insieme ad altri ragazzi. Ma chi è davvero Adolfo Meciani? Adolfo Meciani è un uomo dall'aspetto curatissimo, dai modi eleganti e gentili, sposato con un figlio e con una fama di Don Giovanni. Sì, Meciani è il classico playboy della Versilia, quello che, dato un bacio alla moglie e al pupo, passa le sere a scorazzare per le vie di Viareggio con la sua Alfa Romeo duetto rossa o sui tavoli da poker. Ma quella è la sua maschera, il suo modo di nascondere agli altri ciò che lui è davvero, perché se ne vergogna, perché uscire allo scoperto distruggerebbe tutto ciò che si era costruito, la sua immagine, la sua reputazione. Adolfo è bisessuale, o meglio è attratto dai uomini ma non rifiuta le donne e per nascondere quel suo orientamento si trasforma nel più grande playboy di Viareggio. Si circonda di donne, ma di notte, prima di tornare a casa, offre denaro ai ragazzi di vita della Pineta. Nessuno sa di quella sua esistenza parallela, non lo sa la moglie, negli amici più intimi. Meciani è un uomo fragile e tormentato. Nei giorni successivi alla scomparsa di Armanno, quando verrà fuori il nome di Marco Baldisseri, Adolfo sente tremare la terra sotto i piedi, perché sa che il suo nome, in un modo o nell'altro, verrà fuori. Adolfo inizia a stare male, non esce più di casa, continua i attacchi di panico, smette di dormire e mangiare, perde in poche settimane dieci chili. Vive come un condannato a morte e quando legge che la polizia è sulle tracce di un uomo semicalvo e con un'auto rossa, è certo di essere lui quell'uomo. Baldisseri, lo sapeva, aveva fatto il suo nome. Meciani, per le sue continue crisi di nervi, viene ricoverato in psichiatria per 15 giorni. Due volte tenta di togliersi la vita. Viene sottoposto a 7 elettroshock. Nessuno sa spiegarsi l'origine di quel crollo mentale. Nessuno, tranne lui. Quando esce dalla clinica è l'ombra di se stesso. Parla e si muove come un automa, perché viene imbottito di psicofarmaci. Meciani, però, lo abbiamo visto, ha un alibi. E non può essere stato lui. Baldisseri, quindi, ha raccontato un mucchio di fandonie. Viene così riconvocato e messo sotto torchio. E qualche giorno dopo, la mattina del 21 aprile 1969, il primo colpo di scena. Baldisseri confessa. È stato lui a uccidere Armanno Lavorini e ha fatto tutto da solo. Un incidente, dirà. Marco raccolta che, dopo il furto di un motorino, aveva incontrato Armanno a Luna Park e gli aveva proposto di venire con lui in spiaggia, a Vecchiano, a raccogliere bossoli. In spiaggia litigano, Marco gli dà un pugno e Armanno cade e non si rialza più. Baldisseri, allora, lo seppellisce sotto la sabbia. Chiama al negozio e fa credere a tutti che Armanno sia stato rapito a scopo estorsivo. Caso chiuso, quindi. Ma in pochi ci credono. Armando Lavorini, ad esempio, si chiede come abbia fatto a fare tutto da solo. E l'uomo al telefono aveva una voce matura, non quella di un sedicenne. Vengono interrogati altri ragazzi della Pineta, come Andrea Benedetti, 14 anni, che i giornali ripatteggeranno faccia ad Angelo per i suoi tratti delicati. Andrea proverà a scagionare Baldisseri, dirà che erano insieme quel 31 gennaio. Poi ammette che sì, era insieme a Marco ed Armanno a Vecchiano. Volevano fargli il tarao, ossia levargli i calzoni e lasciarli in mutande. Ma Armanno si era ribellato e Marco lo aveva atterrato con un pugno. Insomma, un balletto continuo di versioni su versioni su versioni. Ma qual è la verità? E qual è il rapporto che lega questi ragazzi? Per il momento non si sa, ma in ogni versione che danno c'è sempre un nome che alla fine viene fuori. Quello di Meciani. Meciani che uccide Armanno e coinvolge i ragazzi della Pineta. Poi Meciani che aiuta a seppellire Armanno. Meciani che chiama il negozio. Gli uomini di De Julio lo vanno a prendere dalla suocera. La stampa ha avuto una soffiata e la città intera sa già che Meciani c'è dentro fino al collo. Quando lo portano in caserma, la folla è inferocita, gli dà del maiale. È il 25 aprile 1969. Adolfo Meciani è un uomo che non ha più niente da perdere. È sconfitto. Il suo segreto non è più un segreto. Ma nonostante tutto non cede, lui con il caso Lavorini non c'entra nulla. Ci provano in tutti i modi a farlo confessare. Lo mettono persino a confronto con Benedetti. Niente da fare. Meciani non cambia versione. Ma dopo 24 ore di interrogatorio ininterrotto, i suoi nervi sono a pezzi. Non ce lo fa più. E in un gesto di pura disperazione afferra un tagliacarte e prova a tagliarsi la gola. Non si fa che un taglietto, lo medicano e lo spediscono a casa. Ma viene ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per occultamento di cadavere. Con lui anche Andrea Benedetti, che però ha 14 anni e non è perseguibile. L'unico a rimanere in carcere in custodia cautelare è Baldesseri. Per lui l'accusa è di omicidio preterintenzionale. Il gioco nel frattempo passa nelle mani di una nuova procura, quella di Pisa, e di un nuovo giudice istruttore, che decide di reinterrogare Benedetti. Il ragazzo dopo un po' crolla e ammette di essersi inventato tutto. E il nome di Meciani lo aveva fatto solo perché Baldesseri lo aveva già tirato in ballo. L'ennesimo buco nell'acqua. E ricordate il Rodolfo della Latta? I carabinieri ipotizzano un suo coinvolgimento in qualità di becchino. Forse aveva aiutato lui a seppellire il povero Ermanno. Della Latta però dà un'altra versione ancora. Ma quale lì despiaggia? Dirà. Ermanno è morto in seguito a un festino finito male. E indovinate chi c'era di mezzo? Proprio lui, sempre lui, Meciani, ancora una volta. Secondo questa nuova versione della Latta, sarebbe stato obbligato da Meciani ad aiutarlo a trasportare il corpo di Ermanno dal bocciodromo a vecchiano. Lì il della Latta lo avrebbe rivestito perché era nudo e seppellito. Rivestito pensate nello stesso modo in cui normalmente si vestiva Ermanno, con la camicia dentro gli slip, e seppellito in malo modo in una buca poco profonda e più corta rispetto al corpo. Non certo un lavoro da becchino. Una versione senza senso, ma l'unica possibile in quel momento. Meciani viene riconvocato per la terza volta e di nuovo, come un copione che si ripete, ad accoglierlo c'è una folla inferocita. Lo mettono a confronto con Benedetti, faccia d'angelo, che precedentemente aveva detto di essersi inventato tutto e che viene incalzato affinché parli di questi fantomatici incontri di gruppo tra adulti e ragazzini. Benedetti, come un uomo navigato, tenta di confondere le acque. Dice e non dice, finge di confondersi, ammette una cosa e il momento dopo la nega. Ritratta e conferma. E tutto è nello spazio di una manciata di minuti. Gli inquirenti disperati arrivano a suggerirgli quello che deve dire. Gli danno delle sponde, come si dice in gergo, e Benedetti le cavalca inventando persone e situazioni, tirando in ballo personaggi illustri, in una sorta di delirio senza via d'uscita. Le sue descrizioni su ciò che avveniva nei festini, però, sono raccontate con dovizia di particolari, al punto che gli stessi carabinieri ne sono sconvolti. Come fa un quattordicenne a sapere certe cose? Per il resto, le descrizioni di Benedetti dei luoghi dei festini, ad esempio, o dell'arredamento delle case dove si sarebbero svolti, sono sempre generiche e lacunose. Un fatto è certo. Sia lui che della latta attribuiscono a uno di questi adulti la responsabilità della morte di Armanno. E poi accade un fatto. Andrea Benedetti fa un nome in particolare, ed è un nome che si abbatte su quella storia come una bomba. Quel pomeriggio, insieme a Meciani, c'era anche Leoni da Rossi, l'industriale con cui Meciani si era incontrato quel pomeriggio. Lo riconosce da una foto che gli mostrano, foto tra l'altro che era stata pubblicata da tutti i giornali. Ecco come l'unico tassello mancante del mosaico, prende il suo posto. L'alibi di Meciani è pericolosamente in bilico. Anche della latta tira in ballo personaggi illustrissimi come il sindaco di Viareggio, che pure strano ai fatti, si dimette con riserva. Della latta anche lui si contraddice, ritratta, conferma. Li sta tutti palesemente prendendo in giro. A quel punto nessuno sa più cosa è vero e cosa non lo è. Si prova anche a mettere i ragazzi a confronto, ma loro con un'abilità fuori dal comune costruiscono le versioni aggiustandole di volta in volta, in modo che alla fine esse combacino perfettamente. Viareggio trema. Tutti cominciano a temere di essere tirati in mezzo. Nessuno più al sicuro. In molti vanno a letto da innocenti e si risvegliano sulle prime pagine dei giornali. Il 2 maggio 1969 Adolfo Meciani viene arrestato. De Julio ne è convinto. I ragazzi, per quanto giochino a confondere le acque, quando parlano di Meciani dicono il vero. E soprattutto, per De Julio, ci sono di mezzo i festini. E Meciani, né il cerimoniere, né certo. Meciani viene tradotto al carcere di Pisa e di nuovo la folla lo sale. Alcuni provano anche a ribaltare l'auto, alimentati da un vero e proprio senso di vendetta, più che di giustizia. In carcere Meciani si chiude nel più assoluto mutismo. Se ne sta sulla branda con lo sguardo perso nel vuoto, rifiuta il cibo e rinuncia anche all'ora d'aria. Nella sua testa si forma un pensiero, anzi un piano, un piano per farla finita. Nel silenzio della sua cella Adolfo Meciani, con metodo e perizia, trasforma il lenzuolo in tanti piccoli lembi di tessuto che lega insieme fino a creare una sorta di corda. Poi forma un cappio. Una volta fatto ne prova la resistenza. È un tessuto di scherza qualità, ma potrebbe funzionare. Dopo il consueto controllo di verifica delle guardie, Adolfo annoda un lembo della corda alle sbarre della finestra, indossa il cappio e si lancia in avanti. Le sbarre non sono altissime, lui invece sì, è alto 1,80, ma funziona, in qualche modo funziona. Non muore, ma entra in un coma dal quale non si risveglierà più. È il 7 maggio 1969 e dopo un coma durato 47 giorni, il 25 giugno muore. Adolfo Meciani è la terza vittima del caso Lavorini. Muore lui, ma non le accuse a suo carico, che rimangono. Certo, non si può procedere perché lui è morto, ma quelle accuse rimangono. Ci vorranno anni per riabilitarne la memoria, per dimostrare che era del tutto estraneo i fatti. Qualcuno dirà, non si è tolto la vita, è morto di vergogna. Anche la moglie Marcella, per riflesso da questa storia, ha ricevuto solo il peggio possibile, ma lei, il marito, non lo ha mai rinnegato e ne ha sempre difeso la memoria. C'è però qualcuno che a quella storia dei festini proprio non crede, ed è il giudice istruttore Pierluigi Mazzocchi, che con meticolosità apre un altro filone di indagini, che parte dai faldoni delle centinaia di verbali di interrogatorio. Il giudice nota come più di un testimone aveva riferito di strani movimenti a casa di Baldisseri in via della Gronda, nei mesi precedenti all'omicidio di Armanno. Persone che a tutte le ore del giorno entravano e uscivano. Ragazzi, per lo più, tra loro c'è anche un certo Pietro Vangioni, detto Pietrino, un personaggio chiave, anche lui. Pietro Vangioni, Baldisseri e della Latta, fanno tutti parte di un'organizzazione politica di destra, il fronte monarchico giovanile. Tutti lo sanno. Marco, la spilletta del simbolo del gruppo ce l'ha sempre ben appuntata. Impossibile non notarlo. Di quel gruppo Vangioni e il presidente. Ma come ha fatto Pietro Vangioni a non essere mai coinvolto dalla vicenda Lavorini? Intanto perché ha fornito un alibi che poi si rivelerà falso e poi perché è molto astuto e ha un grande ascendente sui componenti del gruppo, che dirige come marionette dalle ritrovie. È sua la strategia delle mille versioni per confondere le acque. Ma Vangioni è anche un informatore dei carabinieri. Il suo nome salta stranamente fuori solo quando i carabinieri si tirano fuori dalle indagini per presunte pressioni durante gli interrogatori tra i ragazzi della pineta. Vangioni ha vent'anni, è molto carismatico ed estremamente ambizioso. Per non dare nell'occhio però fa il cameriere stagionale. Il giudice Mazzocchi per prima cosa cambia il capo d'accusa da omicidio pretene intenzionale a omicidio volontario. Poi ipotizza che dietro alla morte di Armanno ci sia qualcosa di più grande e che tutta quella sequela di versioni diverse siano solo un modo per inquinare le indagini e indirizzarle da tutt'altra parte, lontano dalla loro organizzazione. I tre ragazzi vengono riascoltati e messi sotto torchio. Mazzocchi nota un fatto nuovo che gioca a suo favore. I tre che prima si spalleggiavano strenuamente adesso ritrattano tutto e tirano fuori la loro primissima versione. Della Latta ha solo aiutato ad occultare il cadavere del povero Armanno e Benedetti non solo conferma di non conoscere Meciani ma dirà di essersi inventato tutto e di non conoscere neanche Armanno. Io non c'entro niente dirà faccia d'angelo. Marco a questo punto è solo e inizia a parlare ma stavolta i festini non c'entrano nulla. Armanno dice non è stato ucciso per un incidente o per un festino tra adulti andato male ma c'era il progetto di rapirlo a scopo estorsivo. I soldi del riscatto sarebbero serviti a finanziare la loro organizzazione e comprare esplosivi. Marco conferma che il garage di casa in via della Gronda era il loro quartier generale dove facevano le riunioni e dove avevano deciso il tragico destino di Armanno. Un tredicenne buono e pieno di sogni con l'unica colpa di avere una famiglia benestante. Doveva rimanere chiuso in una baracca a Marina di Vecchiano in attesa del riscatto invece è finito sotto 40 centimetri di sabbia. Nel gennaio del 1970 il giudice Mazzocchi emette un mandato di cattura anche per Pietro Vangioni. Il pubblico ministero però quella pista, quella politica non la vede, non la considera valida. Mazzocchi è da solo con la sua teoria, la sua pista, mentre la stampa e l'opinione pubblica sostiene la pista dei festini a luci rosse. E poi troppe versioni, troppi fatti da confutare e da confermare. Un vero ginepraio che porterà i tre ragazzi al giudizio per il processo di primo grado solo nel 1975 presso la corte di Assise di Pisa. Per loro l'accusa è di tentata estorsione e omicidio volontario. Il 6 marzo 1975 arriva la prima sentenza. La corte derubrica il reato da omicidio volontario a omicidio pretere intenzionale. 12 anni di reclusione per Rodolfo Della Latta, 19 per Marco Baldisseri, condannati anche per calunnia nei confronti di Adolfo Meciani. Pietro Vangioni invece viene assolto per mancanza di prove. Neanche il movente è chiaro per la corte, ma è sicuramente da ricercare nel mondo della vita notturna in Pineta e i festini nelle ville solitari della Versilia. Il movente politico? Una fantasia. La sentenza consegna all'opinione pubblica la verità che da sempre stampa e Viereggio tutta sosteneva. Ermanno è finito preda dei capovolti della Pineta. La sentenza d'appello è un'altra storia. Contrariamente al primo grado in aula entrano le intercettazioni ambientali delle conversazioni tra i tre ragazzi. Il PM questa volta spinge per il movente politico. Anche le sentenze cambiano. Della Latta viene condannata a 11 anni e 10 mesi, Baldisseri a 8 anni e 6 mesi e Vangioni a 9 anni di reclusione per rapimento e omicidio pretere intenzionale. Questa volta il movente politico. Le sentenze vengono confermate in Cassazione nel 1977. Ma cos'è accaduto davvero quel 31 gennaio 1969? Ermanno alle 15 si trova a Piazza Grande, alle Giostre. In piazza ci sono anche della Latta e Baldisseri che rapiscono il povero Ermanno e lo portano a Marina di Vecchiano. Qualcosa va storto perché il progetto, che era quello di tenerlo chiuso in una baracca, sfuma. Vangioni a questo scopo aveva anche procurato un sacco appelo, che mai nessuno ha provveduto a esaminare. Ma qualcosa va storto, i ragazzi perdono la testa, picchiano Ermanno fino a ucciderlo. Forse lo soffocano, scavano poi una buca poco profonda e ce lo mettono dentro. Il resto è una delle pagine più brutte e tristi del nostro paese. I tre ragazzi non lo sanno, ma con l'oro e il rapimento di Ermanno si apre la stagione della strategia della tensione, che proseguirà con la strage di Piazza Fontana e moltissimi altri attentati a sfondo politico. Iniziano gli anni di piombo, ma questa è un'altra storia. Sono passati 50 anni da quell'orribile fatto che ha sconvolto Viareggio e nessuno in Versilia ha dimenticato Ermanno e la sua tragica storia. Però tante domande sono rimaste senza risposta. Ad esempio, chi avrebbe chiamato il negozio per rivendicare il rapimento? Come sono andati i tre ragazzi senza auto e senza mezzi da Viareggio a Marina di Vecchiano? Ma davvero hanno fatto tutto da soli o c'era una regia occulta? Tutte domande senza risposta, ahimè. Dopo aver scontato la pena, Vangioni, Della Latte e Baldisseri ancora giovani sono tornati alle loro vite. Vangioni ha aperto una ditta di recupero metalli, Baldisseri si è messo a fare il cuoco e Della Latte è tornata ai servizi funerari. I genitori di Ermanno invece sono entrambi morti nel 2001, con un grande gigantesco peso nel cuore e il dolore indicibile di chi è costretto a sopravvivere ai figli. Di quella Viareggio trasformata in Salem è rimasto il ricordo sbiadito di un 1969 orribile, dove la paura si è trasformata in sete di vendette e giustizialismo d'orologeria. E poi c'è lui, Ermanno, la sua aria grave e i capelli a spazzola, in sella alla sua bici rossa modello Aquila, che ignaro si consegna ai suoi aguzzini. E invece io me lo voglio immaginare mentre dà due calci a un pallone e in sella alla sua bici torna a casa a fare i compiti. Come sarebbe accaduto se questo fosse un mondo giusto? E si conclude così il mio video. Immagino conoscevate già questa storia, ma forse non nei dettagli. È un caso molto molto intricato e che avrebbe richiesto almeno altre tre ore di video. Io ho fatto del mio meglio per non tralasciare nulla, ma ahimè, tanti dettagli ho dovuto tenerli fuori. A questo proposito vi suggerisco la lettura del libro che ho usato come fonte principale, che si chiama Il caso Lavorini, il tragico rapimento che sconvolse l'Italia, di Sandro Provisionato. Un libro davvero completo, ricco di dettagli, nomi, fatti, date, davvero un lavoro pregevole, ma che ahimè non ho potuto utilizzare appieno, nel senso che ho messo tutto ciò che serve.